Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare l'ultimo gioco che ci è arrivato, Nova Etas, a cura della Ludus Magnus e portato in Italia dalla Cosmic Group, la Cosmic Games, che ancora una volta ringraziamo di cuore per avercene fornito una copia per la recensione, quindi grazie ragazzi, come vi ho detto per me è un onore, è un privilegio poter collaborare con voi, speriamo che ovviamente questi video vi piacciono alla cosa duri e grazie veramente di cuore ragazzi per averci mandato una copia per la recensione. Come vedete qui davanti a me c'è il gioco, versione inglese, più il kit di traduzione appunto a cura della Cosmic Games in Italia, il kit di traduzione italiano. Praticamente voi ordinandolo dal link che trovate in descrizione, ordinerete il gioco e più vi arriverà anche il kit con versione in italiano, dove dentro troverete carte, equipaggiamenti, regolamento, missione e tutto quanto. Quindi i regolamenti alla fin fine saranno doppi, avrete sia quello nella versione originale base inglese, più il kit di conversione. Nova Etas è un gioco ambientato nell'Italia rinascimentale, rivista ovviamente in chiave fantasy, dove ci saranno tre forze principali che si daranno battaglia per la conquista appunto di questa, della nostra penisola in chiave, ve l'ho detto, rinascimentale, ma comunque sempre fantasy. Le tre forze in campo sono l'armata papale, le forze e i mercenari della Serenissima di Venezia, i primevi, che sono praticamente delle creature fantasy tipo centauri e cose del genere, perché appunto ve l'ho detto è un'ambientazione un pochino rivista in chiave fantasy, low fantasy ovviamente, e i giocatori saranno un gruppo di mercenari, o per meglio dire come appunto l'ambientazione lì di soldati, di ventura, e questo gioco è molto bello e divertente perché può essere giocato in due modalità, o missioni singole, oppure una vera e propria campagna, tra scontri ovviamente, battaglie sul campo, scontri politici e cose del genere, perché anche le forze che troverete in campo si daranno battaglia a vicenda. Allora, forse la cosa bella, è la prima volta, a parte ce ne saranno sicuramente un milione di più, però per tutti i board game che abbiamo recensito finora è la prima volta che mi capita. Questo è bello perché secondo me è un gioco tridimensionale, come vi farò vedere in una piccola partita nel tutorial, perché ha degli elementi scenografici in 3D, e ricorda un po' anche volendo un warhammer, o comunque un gioco tipo un confrontation, con elementi scenici sul campo. E la cosa che vi dicevo bella è che fonde il board game al war game. Cioè uno compra un gioco del genere, per quanto è un gioco cooperativa, non è un gioco PvP, tutti siamo parte di quella squadra di eroi, tra virgolette, soldati di ventura, e dobbiamo fare le missioni, ed è tipo un'intelligenza artificiale, con il regolamento di gioco, lì ha, che muove le truppe del nemico. Però è bello perché comunque si può entrare dentro le case, si può salire sui tetti, dai tetti si può tirare a quelli sotto, cercare copertura dentro gli edifici. Il gioco è molto tridimensionale, secondo me questo è perfetto per tutti gli amanti anche di quei giochi skirmish della Games Workshop, fusi con un board game. Secondo me è veramente perfetto, e vi dirò poi con la recensione finale, perché è un titolo veramente molto interessante. Passiamo all'unboxing. Ragazzi, non sto a descriverlo nemmeno più di tanto, perché è un kit di conversione, un pacchetto in italiano, ed aprendolo, vedete, avete le carte tradotte, le schede dei personaggi, il regolamento e tutt'altro, quindi è semplicemente un kit di conversione. Scatola di gioco, dimensioni abbastanza ridotte, vedete, con la mano, più o meno come la scatola di Fallout, e bellino anche il disegno che c'è sopra, vedete, no? Sembra un po' un classico borghetto medievale toscano, sembra appena di rivedere Lucca, o perché no, anche magari Firenze, Arezzo e cose del genere. Vedete, gli eroi principali dell'avventura, che poi, come tutti gli archetipi in questa ambientazione qui, c'è uno più bravo a tirare, c'è una maga, che tra l'altro ricorda molto Triss Merigold di The Witcher, e un guerriero ed altri soldati di ventura. Apriamo il regolamento di gioco, tra l'altro molto semplice, e al solito, tanto, ormai mi conoscete, no? Se mi seguite da qualche tempo, questo gioco avrà un voto in più proprio per il suo regolamento, molto semplice. Dadi, ovviamente per fare check sulle abilità e testare le prove. Carte degli NPC, dei mostri. Carte equipaggiamenti, ferite, condizioni, eventi particolari. Tra l'altro, due bei pacchettoni. Mignature, in cui potete vedere ovviamente marroncini in fondo, gli eroi, e tutto il resto sono gli NPC. Tra l'altro sono belle grosse e di una bella qualità, quindi mi piacciono veramente da morire. Come vi dicevo prima, quella maga che ricorda molto Triss Merigold della saga di The Witcher. Guardate anche la qualità della pedina. Tra l'altro, la cosa bella è che sono un pochino più grandi rispetto alla media di questi giochi. Bellissime poi, comunque, scolpite, fatte veramente molto molto bene. Un centauro, dei primevi, come vi descrivevo precedentemente. E queste sono quelle creature fatate, appunto, che danno quel tocco di low fantasy a questa ambientazione un po' dark, rinascimentale, non strana. Schede dei personaggi. Manualetto del borgo e delle città, perché tra ogni avventura, nella modalità campagna, è bellino, tipo HeroQuest, perché sarà possibile fermarsi in questi borghettini medievali italiani e fare, che ne so, prendere queste secondarie, comprare equipaggiamento, vendere equipaggiamento e cose del genere. Tile di gioco in cui muoversi, divisi in tile cittadini, o comunque sull'astricato sulle strade, e tile, invece, per ambientazioni più boschive. Libro dell'avventure, modalità single shot o campagna. Token, più elementi scenici in 3D, che ovviamente vanno staccati, come in questo caso qui, montati per fare gli alberi, le casette e tutti gli elementi scenici che servono per tavolare la vostra partita ed iniziare il round. Guardando nel complessivo la carta del personaggio, vedete che c'è il simbolo di un libro, da questa parte il personaggio dovrà mettere tutte le sue carte abilità, da questa parte qui, invece, in basso, dovrà mettere, parte centrale in basso, tutte le carte equipaggiamento, che si porterà dietro, che troverà nel corso della missione, e da questa parte, invece, gli oggetti e le armi che avrà in quel momento addosso, siano armi da tiro, da corpo a corpo, incantesimi o cose varie. Partendo dalla descrizione, qui sulla scheda, vedete, ogni personaggio ha delle abilità con dei simboli legati, più dopo vi farò vedere cosa vuol dire questo colore qui dell'oggetto. Partendo dall'arto, il primo inarto con questa mano tipa artigliata è la maestria. La maestria ci dice il tipo di dado che andrà a tirare il personaggio, quindi in questo caso qui ci dice che il personaggio tirerà un D8. Nel caso il personaggio prendesse abbastanza punti esperienza da passare di livello, dovrete girare la scheda dall'altra parte, vedrete che cambieranno anche i colori, avrà un altro tipo di equipaggiamento, e a quel punto avrà un altro tipo di dado che dovrà attirare. In questo caso, comunque, nel caso del cavaliere sarà sempre un D8. Il secondo valore, la rapidità, che in questo caso il cavaliere ha 6, però come vedete anche la maga, anche lei è un 6, la rapidità è l'ordine di iniziativa, che avrà a inizio di ciascun turno, più il numero di azioni che potrà fare, quindi in questo caso 6 punti azione. Il valore fisico, il cavaliere insomma, giustamente un combattente ce l'ha abbastanza alto di 5, e il valore fisico servirà tutte quelle volte che ci sarà da fare una prova di forza contrapposta, oppure una prova di forza, prendere e spostare un oggetto, lanciare un oggetto e cose del genere. Quindi tutte le prove legate alla forza saranno sempre il terzo simbolo, partendo dall'alto. La mente, ovviamente il cavaliere a un livello basso, la maga lo ha sicuramente più alto, sono tipi invertiti, la mente, per lanciare incantesimi, oppure resistere quando ci vengono lanciati contro incantesimi. E ultimo, ma non meno importante, le ferite. Quando le ferite arriveranno a 0, il personaggio ovviamente sarà fuori dalla partita. Completano la scheda, inizialmente un colore e un simbolo, che ci faranno capire con quali tipo di equipaggiamenti il personaggio partirà. Quindi nel caso del cavaliere, partirà, potremmo dargli tipo, tra i tanti equipaggiamenti di partenza, ad esempio, una spada a due mani, che vedete come il simbolo ha una spada rossa in fondo, quindi vuol dire che va bene per questa classe, ma non potrebbe andare bene ad esempio per la maga. E su tutte le carte c'è scritto quanti punti azione vanno spesi per usarle, vi ricordate la rapidità, in questo caso 3, per fare un attacco con la spada a due mani, e poi l'effetto dell'arma. In questo caso, invece di fare una sola ferita singola, ne farà due per ogni successo che passerà alle difese del nemico. Segnalino, che vedete, tra l'altro si muove, del livello della minaccia di ciascun giocatore e personaggio, quindi ogni personaggio dovrà averne uno accanto alla scheda, e ogni volta che il personaggio ucciderà un mostro, o completerà un obiettivo, farà anche semplicemente delle ferite a un nemico, il livello di minaccia di quel personaggio salirà di un punto, uno o più punti, e quello servirà per far capire, tra molte virgolette, l'intelligenza artificiale, le regole, le IA del gioco, dove muovere i mostri e quale personaggio seguire per andargli in corpo a corpo. Nova Etas, secondo me, ha messo una regola molto bellina. In tutti i giochi come Dungeon & Dragons, no, e cose del genere, ci viene detto che un'azione dura tot secondi, oppure tot round. In questo gioco, il gioco è scandito tutto quanto dal tempo, quindi ogni turno avrà la sua durata in tempo, ed è molto bellino come regolamento, perché intanto, vedete, ci hanno messo questo orologio con la lancetta delle ore e la lancetta dei minuti, che è veramente, secondo me, molto geniale e interessante come meccanica, perché ogni qualvolta un personaggio farà un'azione, impiegherà del tempo, e quel numero di spazi da girare sull'orologio dove spostarsi è dato dal numero, appunto, di azioni che abbiamo fatto in quel turno lì. Quindi, vi faccio un esempio. Vi ho fatto vedere, prima che ogni personaggio ha un livello di rapidità che non soltanto dà il conteggio dell'iniziativa, ma anche del numero di azioni che potrà svolgere in quel turno. Quindi, nel caso inizi un turno, primo turno di gioco, la lancetta dei minuti si sposterà ogni volta, no, dei vari 12 quadranti dell'orologio. Ovviamente, quando tutti quanti i quadranti saranno stati girati dalla lancetta dei minuti, dovrà essere spostata in avanti di un'ora, quella delle ore. E sarà poi dopo il manuale di gioco che vi dirà come devono partire le lancette e quanto tempo avete per finire l'avventura. Se chiara una cosa, anche i nemici hanno degli obiettivi. Quindi, il vostro obiettivo potrebbe essere semplicemente scappare o uccidere tutti i nemici, e i nemici potrebbero avere l'obiettivo di bruciare delle case o di trovare un'area liquida in particolare. Quindi, quando scadrà il tempo, si farà comunque la conta di chi ha vinto e chi ha perso. Ovviamente, l'avventura può finire anche prima. La cosa bellina, vi faccio l'esempio. Se il personaggio ha la maga, in questo caso, vedete, c'è il suo simbolino, che questi due sono gli eroi, più tutti i simbolini degli NPC che abbiamo messo in campo. Il cavaliere, il balestriere e la maga, la zingara. Mettiamo caso che la maga, nel suo turno, abbia sprecato 4 dei suoi 6 punti azione che ha a disposizione. Quindi farà le sue varie azioni che vi faccio vedere sul tavolo. fatte queste azioni, lei dovrà essere spostata di tanti quadranti quanto il numero di azioni che avrà fatto. Quindi abbiamo detto 4, voi a fine del turno, ovviamente turno del personaggio, non turno degli eroi, il giocatore che interpreterà la maga li sposterà di 4, farà 1, 2, 3 e 4. Mettiamo caso il cavaliere ne abbia spese invece 3, lo sposteremo di 3. 1, 2 e 3. L'unica regola è che gli NPC devono per forza consumare tutte quante le loro azioni. Quindi non è che se ce ne hanno 5 ne devono usare 5, non è che ne possono usare 4, ovviamente nemmeno mai di più. Quindi dovranno sempre spostare di tante caselle quanto sono le loro azioni che avranno usate completamente. E un'altra regola è che i giocatori dovranno sempre fare tot azioni per forza, obbligatorie, gli eroi, per spostarsi in un quadrante occupato da almeno un NPC. Quindi non potranno dire semplicemente no, io rimango fermo lì anche perché non fare azioni ti lascerebbe ad un punto di partenza e non potresti piacere. Perché regolamento cosa dice? Ogni fine del turno, fine eroe e fine mostri, NPC, la lancetta andrà avanti. No? Ogni volta di un quadrante fino poi a fare il giro dei 12 quadranti e passare avanti di uno o quello delle ore. Andando avanti attiverà tutte le cose che ci saranno in questo quadrante. In questo caso qui attiverebbe il cavaliere. Però se il cavaliere fosse arrivato qua giù arrivando qui attiverebbe questa volta tutti e tre i mostri che andrebbero sempre per ordine di iniziativa. Quindi farebbero le loro azioni visto che sono solo in questo quadrante e fatte le loro azioni anche loro dovrebbero essere spostati di tot azioni che hanno compiuto. Facciamo conto che tutti hanno quattro azioni si sposterebbero qua giù in fondo. Turno successivo ovviamente la lancetta si sposterebbe in un quadrante dove non c'è nessuno e quindi nessuna azione per poi magari rispostarsi nel quadrante del cavaliere che il cavaliere potrebbe reagire e così si andrebbe avanti. Questo è il regolamento dei turni. I turni sono scanditi così fate tot azioni a fine dell'azione del vostro personaggio contate il numero dell'azione che avete fatto e vi spostate di tot quadranti. Questo è molto semplice. Come vi dicevo prima nel gioco ci sono due tipi di dado cioè il D8 che ad esempio avranno i nostri due eroi di partenza e il D6. Regola principale però che può essere cambiata da regolamento dell'avventura o una carta buttata in gioco cosa ci dice? Che per colpire in questo gioco dovremmo sempre fare un 5 o più sul dado quindi come vedete ad esempio sul dado da 6 c'è il 5 c'è il 6 e poi c'è un altro simbolo sopra. Stessa cosa sul dado da 8 dovremmo fare sempre dei valori che vanno da 5 o più ovviamente questo sempre se avete una carta un equipaggiamento che l'equipaggiamento vi dice una magia ad esempio colpite col 4+, ovviamente colpite col 4+, quella regola non vale. All'inizio dell'avventura ci verrà detto come mettere gli edifici quello ve lo dirà sempre il libro dell'avventura gli elementi scenografici tipo che ne so un albero, un cespuglio e cose del genere in più disposizione degli NPC che in questo caso abbiamo messo qui qui che è un balestriere la zingara che è tipo una specie di maga e la locazione di partenza dei personaggi. Ora come vi ho fatto vedere inizialmente con l'orologio sappiamo che i nostri eroi ad esempio hanno un valore di rapidità di 6 mentre invece i mostri che vi faccio vedere ad esempio una carta mettendo ad esempio la carta di questa guardia papale di questa specie insomma di questo cavaliere in armatura pesante in alto vediamo il suo livello di rapidità uguale a quello dei personaggi che lui ha 4 quindi lui in ordine iniziativa muoverà dopo di loro perché vi ricordate che gli eroi hanno 6 a testa in più non avrà 6 azioni come loro ma ne avrà 4 segue la sua area di effetto 3 e questa è la cosa più importante delle regole perché quando dovete muovere un NPC quando dovete muovere un NPC in questo caso questa guardia papale dovete contare la sua area di effetto che vedete c'è scritto 3 quindi dovete calcolare che la sua area di effetto è 3 caselle ok in tutte le direzioni perché lui in questa sua area di effetto avrà delle regole particolari su come spostarsi e che ingaggiare segue il livello di armatura da superare con un tiro per attacchi fisici il livello mentale e punti ferita in fondo del mostro più ovviamente le sue caratteristiche qui in fondo che ci diranno se attacca a distanza o in corpo a corpo il numero di danni che farà quando arriverà in corpo a corpo e farà un attacco contro un personaggio e in più il tiro che ci sarà da fare per resistere a queste ferite il regolamento del gioco è molto semplice cosa ci dice come vi ho detto non ci si può muovere in diagonale quindi nel caso nel turno del guerriero non sarà possibile spostarsi per andargli in corpo a corpo lui ha 6 movimenti 6 azioni non potrebbe fare 1 attacco no i movimenti vanno sempre fatti in questa maniera qui quindi lui per arrivare in corpo a corpo di questa guardia papale dovrebbe fare un movimento 2 movimenti come vi ho detto le diagonali non valgono 3 movimenti e quindi per arrivarli in corpo a corpo ah non conta che l'ha preso da dietro e cose del genere i personaggi ragazzi vedono sempre a 360 hanno visuale quindi su tutto il campo ora li sarebbe arrivato in corpo a corpo con 3 azioni delle 6 che ha a disposizione ricordatevi poi sempre alla fine del calcolo di muovere il personaggio il token del personaggio su il contatore delle ore dei turni lui vi ricordate ve l'ho fatto vedere inizialmente aveva una spada a due mani la spada a due mani come regolamento come regola mi dice che ci vogliono 3 punti azione 3 action point per utilizzarla quindi 3 che ha usato per muoversi più i 3 che userà ora per attaccare e avrà finito completamente le sue azioni sia chiaro un'azione può essere fatta anche più di una volta quindi se lui fosse partito in corpo a corpo avrebbe potuto fare invece che un attacco o due attacchi non c'è nessuna regola particolare sulla carta quindi noi andremo a tirare il nostro dado giallo da 8 e dovremo fare per colpire il nemico visto che è un tiro in questo caso qui non è una prova a spostare un oggetto o cose del genere per andare a colpire la guardia papale dovremo fare un tiro come vi dicevo precedentemente che superi il suo livello di armatura siccome la guardia papale vi ho fatto vedere precedentemente che come tira armatura ha un 4 o più cosa vuol dire che per colpire lui e fargli una ferita dovremo fare un valore pari o superiore al suo livello di armatura quindi tirando su un dado da 8 tutti i valori che andranno da 4 in su sarà una ferita nel caso di mancato non succederà niente nel caso di colpito in questo gioco non c'è da tirare per i danni perché tutte le armi fanno un danno almeno che non ci sia specificato qualcosa di diverso sulla scheda ad esempio abilità speciale della spada a due mani richiede un pochino più di punti azione perché è lenta come arma però invece di fare una ferita ne fa due nel caso che noi avessimo fatto due ferite alla guardia papale prenderemo due token li metteremo sulla scheda lui da 6 scalerà a 4 e ovviamente il combattimento sarà finito stessa cosa ragazzi per attacchi magici ad esempio la maga potrebbe avere un incantesimo da corpo a corpo e segue le stesse regole solo con la differenza che usiamo il potere mentale e la difesa mentale o se no attacchi a distanza dove sulla carta ci sarà scritto a quanti quadranti di distanza può attaccare e poi si va uguale come per il corpo a corpo finiscono le azioni ad esempio di movimento un personaggio che può entrando dalla porta principale non dalle finestre o altre cose entrare con due azioni dentro un edificio e con due azioni può uscire dall'edificio questo serve per metterlo in copertura perché ricordatevi gli NPC a meno che non ci sia specificato nelle regole della missione non possono entrare dentro gli edifici quindi con due azioni potrei farla entrare dentro l'edificio ovviamente lo tolgo dal tavolo ricordandomi che è lì o farlo uscire oppure potrebbe sprecare un'azione sempre che abbia l'abilità scalata abilità potrebbe sprecare un'azione per salire sopra l'edificio ora lui uno spadaccino gli serve ben poco ragazzi perché potrebbe usarlo per scappare da dei nemici che magari lo stanno rincorrendo e lasciare il campo ad altri eroi però nel caso che avesse avuto un'arma da tiro o il balestriere perché c'è anche nella compagnia di avventura negli eroi potrebbe salire dal tetto per avere tiro su tutti quelli sotto armati con armi da corpo a corpo e quindi che non potrebbero contraattaccarlo ovviamente maghi e balestrieri potrebbero provare a tirargli lassù può salire ve l'ho detto se ha l'abilità scalata a quel punto non c'è nessun tiro di dado può dire semplicemente io spreco un puntazione perché sono qui sotto e con un puntazione salgo qui però se non avesse l'abilità scalata e quindi non potrà andare lassù in cima perché non sa come farlo di solito in tutte le mappe di gioco c'è sempre una scaletta o almeno nella maggior parte il personaggio potrebbe sprecare un'azione per prendere la scaletta sprecare un'altra azione magari per avvicinarsi ed appoggiarla alla casa e sprecare la terza azione per salire sull'edificio molto figo questo gioco perché se ci sono due edifici adiacenti lui potrebbe nel suo turno successivo sprecare un'azione e riprendere la scala posarla per fare ponte da tetto a tetto passarci sopra e spostarsi sui tetti quindi come vedete è un gioco veramente molto tridimensionale e le regole ovviamente ragazzi io non voglio e non ve le farò mai di tutorial perché non mi interessano cioè già li fanno gli sviluppatori tutorial è inutile rifarli su un canale che tratta di cose ne penso io vi do un'infarinatura principale e cerco sempre di farvi capire se è un gioco che può valere per voi oppure no se vi può interessare o meno vi assicuro che tolte queste regole che vi ho descritto abbastanza velocemente ce ne sono pochissime altre la differenza è che nel turno dei mostri ricordatevi sempre la sua area d'effetto quindi contate le caselle tirate un bel quadrato intorno a lui e quella è la sua area d'effetto se lui avesse una missione che in questo caso potrebbe scusate se ci metto un dado ma almeno ci capiamo è il dado verde lui potrebbe dire ok la mia missione nel libro missioni è da arrivare a prendere questo oggetto ok quindi lui si muoverà sempre verso quell'oggetto lì anche se ci sono dei nemici nelle vicinanze quando sarà il suo turno sprecherà le azioni per andare verso il suo obiettivo l'unica differenza che c'è l'unica che lui potrebbe decidere di attaccare un giocatore o qualcos'altro è che le regole lo dicano tipo che ne so andrà verso l'obiettivo ma nel caso ci sia un eroe nelle vicinanze andrà verso l'eroe allora dovrete farlo oppure ricordatevi l'indicatore di pericolo di ciascun personaggio perché lui potrebbe dare una priorità a questo sempre dal libro delle missioni di 5 vi faccio un esempio come obiettivo però se il giocatore arriverà a sua volta avere un valore di 5 o più sul suo indicatore di pericolosità il mostro potrebbe dire ok questo ho un valore di 5 però lui ha un valore di 6 quindi in questo caso è la mia priorità sconfiggerlo e poi dopo andare a fare l'obiettivo il regolamento per muovere mostri è questo è lo stesso ragazzi con l'unica differenza che sulla stessa carta del mostro vi verrà sempre elencato i punti ferita che farà il dado che dovrà attirare la distanza se in corpo a corpo o appunto un'arma da tiro e soprattutto il tiro che dovrà fare ciascun eroe per resistere alle ferite che farà il mostro ragazzi il gioco è tutto qui in conclusione ragazzi questo è Nova Etas è un gioco sicuramente molto veloce è un gioco con poche regole c'è poi il suo lato tattico ce l'ha anzi forse ha un lato tattico molto più avanzato di uno zombie sai dei giochi del genere però fondamentalmente è un gioco cooperativo con le sue giuste regoline che fatta una partita già alla seconda a metà della seconda sapete assolutamente tutto è come muovervi molto bellino il discorso dell'orologio mi è garbato veramente da morire lo scandire del tempo il passare dell'ore mi ricordava un po' i cavaliari dello zodiaco le 12 case spettacolare assolutamente la tridimensionalità degli scenari perché siamo abituati a vedere scenari normali con magari la chiesa diroccata disegnata sopra l'abitazione e tutto quanto ma qui ci sono proprio veramente le case poi sono fatte anche belline per quanto di cartone sono veramente interessanti forse l'unica cosa appunto leggermente a sfavore è che preparare il tavolo è abbastanza veloce più che altro rimetterla a posto questo è il classico gioco che se portate a giro rischiate di perdere un pezzettino nella casa poi dopo non la montate più ma anche perché dovete smontare tutto cioè servirebbe forse servirebbe una scatoletta a parte dove mettere tutte quante le cose sceniche e portarle via perché non vorrei mica ogni volta che finisce una partita smontare le casette e rimetterle a posto comunque gioco veloce gioco immediato gioco interessante una bella ambientazione la modalità campagna comunque è carina fatta bene poi è bellino perché come finisce la missione precedente attacca quella dopo quindi comunque è una grande rigiocabilità e bellissimo il metagame il metagame perché in questo gioco finita ciascuna missione potrete decidere se riposare o prenderete la mappa del villaggio che vi ho fatto vedere precedentemente deciderete che ne so andiamo in locanda per rifocillarci e riprendere punti ferita o abilità o cose del genere appunto andiamo al negozio a prendere tipo pozioni nuove armi con i soldi che abbiamo guadagnato o perché no vendere gli oggetti che avevamo dietro ma la cosa più bella le missioni secondarie perché ogni volta che finirete una missione principale avrete tre missioni secondarie che potrebbero spaziare dalla ricerca di un tesoro una missione di caccia addirittura perché no caccia all'orso caccia a cose del genere che è bellino perché vi ributterà automaticamente nella gestione di un'altra mappa però questa volta non della storia come missione secondaria quindi potrete anche tranquillamente fallirla non succederà niente a livello di storia ed è molto interessante quindi se le devo dare un voto a un gioco del genere secondo me non ha niente in più di uno zombie side o di tutti gli altri giochi cooperativi ma per questo fatto qui allora non ha troppi token quindi già un punto di più per me per come la vedo io personale ha bellissimi gli effetti scenografici in 3d e in più ha delle regole semplici secondo me se lo merita tutto un 8 e mezzo su 10 perché è veramente interessante ma soprattutto è un gioco che si intavola velocemente veloce e poi io dico la verità ci sarà un tavolino piccolo dell'ikea non lo richiede nemmeno tutto quindi alla fin fine anche queste sono cose da calcolare in una scatola molto piccolina si trasporta bene l'unica cosa attenzione agli elementi magari a fine avventura tanto saranno sempre non metterete mai 10 casette in campo ne metterete 2 o 3 smontate le pianine e rimettetele da parte vi ricordo in descrizione il link della Cosmic Games per ordinare questo gioco e vi arriverà insieme al kit di traduzione in italiano perché il gioco sarà in inglese però col kit poi avete tutte quante le regole le carte e tutto il resto quindi ancora una volta la Cosmic Games grazie ragazzi da morire è davvero un onore come vi dico sempre anche per mail collaborare con voi ed è veramente molto interessante e poi ragazzi vi ricordo che in descrizione trovate anzi ve lo metto qui così lo vedete subito la nostra casella postale nel caso vogliate mandarci un gioco da tavolo vogliate mandarci un gioco di carte un wargame per una recensione quindi o un gioco usato che non volete più o volete farci un regalino comunque sarete sempre i benvenuti ricordo dietro c'è sempre il bellissimo Big Travel Little China quindi se ci volete mandare qualcosa sarà sempre recensito e vi ringrazieremo in un video e poi ovviamente anche se volete dare un supporto magari abbonandovi tutti i mesi al nostro Taipì anche questo lo trovate sia in descrizione che a schermo se volete fare una donazione abbonarvi per supportare appunto le nostre idee altra cosa ci espanderemo leggermente nei contenuti prossimamente perché inizieremo ovviamente nei limiti del possibile a trattare anche i giochi di ruolo quindi in questo canale troverete non solo giochi di carte giochi da tavolo e wargame ma anche GDR quindi speriamo quanto prima di portarvi qualcosa ragazzi mi raccomando iscrivetevi sempre al canale e dopo esservi iscritti cliccate sulla campanella come vedete a schermo perché YouTube lo sappiamo ma non da un mese da 5-6 anni non manda le notifiche quindi magari il video uscito vi poteva interessare e ve lo siete perso quindi attivate sempre la campanella fatemi sapere cosa ne pensate con un commento io spero che il video vi sia piaciuto e il gioco è molto interessante tanto ve lo dico sincero per quanto i giochi da tavolo siano tantissimi e sicuramente potrei portarne da qui alla mia morte sul canale io porto soltanto giochi che mi interessano quindi tutti quelli che avete visto finora sul canale sono tutti giochi che io personalmente ho comprato che comprerei quindi andate tranquilli è veramente un bel gioco poi sicuramente avrete modo di provarlo in qualche fiera o in qualche ludoteca ciao ragazzi alla prossima ciao ciao